Attenzione, questo video potrebbe urtare la vostra sensibilità Very ignorant people The E.D. Team Guarda qua, guarda qua Madonna, guarda qua All'interno No, piano eh Guardate, il supporto corale Ah, è vero Ale Ciao maestro, buonasera, è qui la festa, è qui la festa Sì, è vero te Ale Ma io lo farei un po' Chris, mi sono sempre solito a rompi i colgioni Che cos'hai da mangiare tu? Allora, io c'ho la birra, il vino e la grappa Ok Da mangiare E da bere e c'ho una bottiglietta d'acqua Ok Quindi non viene a mangiare il nostro pane e il nostro salame Ma figurati Ragazzi, ma guardate qua che roba Cippo style Cioè, sto provando un tagliere di salumi Facciamo della usola Ma guardate che panorama che c'è di dietro Parca Quando desiderate ragazzi C'è anche il panorama per questo Ale C'è anche il panorama per questo C'è anche il panorama per questo Per questo Per questo E' anche il panorama per questo E' anche il panorama per questo si e roba qua la vedo di quella ok la mia stappare di non lo fa ma sicuro che è un dominato la scuola qua se mi viene qualcuno a prenderci una moto bene la scuola porco dio ah si di qua non mi muovo porca puttana porca puttana qua sono il cazzo si si passa qua faccio il coniglio ma no no non mi muovo ma che si fa ragazzi hai capito? dai, perfetto dai chiaro eh ok, vale hai capito di affa tu che marco da un fu non parla più, è un po' di tempo che non parla più è un po' di tempo che non parla più e da un po' che non parli più parca troia adesso non ci credo non ci credo che fa è un po' che dico Scusa, qualche di sera eh, anche di sera eh Gli ho bucato, hai la bomboletta dietro? Tagli ancora una pampata Le due di notte, e noi abbiamo bucato nei boschi, e siamo qui alle prese con bomboletta Alla prossima avventura, ignoranti Non dimenticate di mettere un like ed iscrivervi al canale Vorresti diventare ignorante ma non sai da dove iniziare? Visita il nostro shop Grazie a tutti Grazie a tutti